Ciao, bentornato oggi sul canale Spettacoli Televisivi, con notizie come Il GF VIP quest'anno è molto richiesto, concorrenza spietata alla Rai, perdono un pezzo grosso perché Lu vuole fare il GF Il reality più richiesto d'Italia rimane il grande fratello VIP di Alfonso Signorini Il conduttore ha fatto diversi giri di telefonate ma un impegno così grande non tutti possono prenderselo È questo il motivo per il quale nonostante il cast sia già formato, Signorini non si arrende e continua ad aspettare gli ultimi sì da inserire Tra i vari nomi Vilma Goic, ad esempio, ha ammesso di essere ancora in dubbio sulla partecipazione per via dell'attaccamento alla famiglia nella quale gioca ancora un ruolo importante Anche Vilma è una delle papabili concorrenti più attese dal conduttore, ma sarà lei a dover decidere se volere entrare in corsa o no Oltre a Vilma, è spuntato ancora un altro nome che nelle ultime ore sembra aver dato l'ok definitivo Si tratta di un volto Rai famoso per il pubblico italiano per la sua carriera trentennale sul palinsesto di Rai 1, a quanto pare ha deciso di stracciare il contratto per fare il grande fratello Vediamo nel dettaglio di chi si tratta. Dal Tg1 al grande fratello Vip, Attilio Romita concorrente del reality di Canale 5, dandolo su oggi, questo il tweet delle ultime ore di Giuseppe Candela Attilio Romita conosciuto per la sua carriera trentennale in Rai ha deciso di stracciare il contratto per spostarsi nell'ambiente completamente differente dei reality show All'inizio giornalista sportivo, poi Romita passa la politica interna alla sede Rai di Bari Successivamente inizia la sua carriera al GR1 nel 1990, arrivando poi al Tg2 già nel 1995 come conduttore Nel 2003 è approdato al Tg1 conducendo l'edizione a pranzo e quella serale Dopo trent'anni di carriera prenda una pausa da mamma Rai per finire nel reality show di Alfonso Signorini, sarà sicuramente una presenza disturbante, riuscirà a calarsi nel nuovo ruolo? Riuscirà a portare se stesse il suo privato in TV? Sarà un'edizione ritta di incredibili novità Grazie per aver guardato l'intero video. La notizia è qui per finire, mettete mi piace e commentate, in particolare cliccate iscriviti al canale, per ricevere le ultime notizie Ciao e ci vediamo nei prossimi video Grazie per aver guardato il video Grazie per aver guardato il video Grazie a tutti